Assieme al presidente della provincia di Arezzo, Roberto Vasai, per parlare di questa guerra dei rifiuti tra Firenze ed Arezzo. No, che guerra? Siamo tranquilli, abbiamo detto quello che dovevamo dire rispetto ad un impegno che la provincia di Arezzo e i comuni del Valdarno si sono presi a suo tempo, e questo impegno lo stanno rispettando. Firenze, a noi abbiamo la sensazione che questi impegni non li rispetti e conseguentemente li abbiamo messi all'aria. In che senso che non li rispetti? Non si può pensare che la discarica è l'avvenire, continuerà ad essere fino all'infinito l'avvenire dei rifiuti tal quali. La discarica ha bisogno di impianti a monte, ha bisogno di incinerimento, ha bisogno di raccolta differenziata. Noi, gli impianti che erano previsti nel piano dei rifiuti della provincia di Firenze sono di là da avvenire, mentre sembra imminente, perlomeno secondo loro, l'apertura della discarica delle borra per i tal quali, cosa che noi non possiamo accettare. Il Valdarno per i tal quali ha già dato e sta dando. Abbiamo già una discarica importante, l'abbiamo ampliata, si può respirare, i nostri cittadini possono respirare per un po' di anni, ma noi bisogna pensare che le discariche servono per le ceneri, però per le ceneri servono gli impianti. Gli impianti che la provincia di Firenze, Firenze ancora... Cioè, campanilisticamente parlando, sarebbe come dire, se pensano di prenderci la chimera e di mandarci rifiuti, hanno sbagliato. Insomma, fino ad ora è andato così, insomma, noi continueremo a fare la nostra parte, perché siamo anche persone serie, però, insomma, noi vogliamo anche serietà, altrettanta serietà dall'altra parte. Non voglio parlare dell'allarme neve, perché tanto tutti i giorni dicono che nevica. Sono persone. E c'è il Dringoli che è in fibrillazione, tutti hanno comprato le catene, e ora sono anche un po' incazzata, perché che ne fanno di queste catene che fanfani da velle a bordo? Ma le viera? Speriamo, se no, è andata a Cervigna. E ora il Presidente, come di prassi, insieme a me mette i corni da renna per fare... Come si metta? Perché non ne hai mai avuto i corni. No, perché vuoi sapere, non pesano, capito? Allora, un augurio agli aretini. Dopo questa manovra... Agli aretini come provincia. L'augurio è che i sacrifici che sono stati richiesti portino qualcosa di positivo in questo 2012. Al momento non è che abbiamo visto tanto, sperando che quest'Europa ritrovi il bandolo della matassa, che significa un governo che effettivamente governi anche la moneta. Non lasciamo la moneta europea in mano alle banche, perché poi, insomma, ci ritroviamo in queste condizioni. Beh, io penso che se ci vede Babbo Natale ci pigna il coppia. Io so più gnu che renda. E allora, con l'anno nuovo ci rivediamo. Tanti auguri a tutti. Tanto, Vittorio, ci rivediamo perché non le cavo un prezzo. Di cuore, ma insomma, speriamo che i nostri sacrifici vadano a buon fine. Grazie. Grazie. Grazie.